Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, video breve per parlare un po' di mercato e dell'incompletezza ancora della rosa della Juventus. Come potete vedere sono in camera da letto, stavolta dietro c'è la cabina rammatica, però ogni tanto qua mi devo arrangiare, ci sono i nipottini che entrano e escono, quindi questo è uno spazietto un po' più tranquillo per registrare stamattina. Allora, parliamo un attimo della situazione mercato della Juventus in generale, perché ora veramente mancano 15 giorni all'inizio della stagione e la rosa non è completa. E vi dico io, vi dico io nel senso non in maniera categorica o assolutistica, ci mancherebbe altro, vi do la mia opinione su cosa manca ancora a questa squadra, come andrebbe migliorata la Juventus e come la Juventus dovrebbe muoversi per cercare di arrivare poi ai momenti importanti della stagione, tra cui l'inizio del campionato, con una rosa almeno quantomeno chiusa, finita in ogni ruolo. Prima di iniziare, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché la maggior parte di voi non è iscritta al canale, è importantissimo. Poi vi invito a scaricare la Buon Football, trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. L'app è gratis, Android, iOS, link in descrizione, non sbagliate. Allora, sto iniziando a sentire una marea di nomi buttati a caso da parte dei media. Nomi buttati a caso perché c'è incoerenza dal punto di vista delle caratteristiche del profilo. Vi faccio un esempio molto banale. Trovo coerenza nei nomi di Marcial, Timo Werner, Morata, perché per caratteristiche questi tre giocatori hanno tutte delle similitudini, delle caratteristiche che sono affini e somigliano. Poi però a questi tre nomi ogni tanto leggo Arnautovic, Velotti e altri. È un mappazzone di nomi buttato a caso tanto per cercare di riempire spazi giornalistici. Quindi queste cose sono più deduzioni giornalistiche che in realtà delle vere e proprie notizie. Perché ripeto, se ragioniamo bene con la nostra testolina sul piano delle caratteristiche, sulla coerenza che può avere quel tipo di notizia, capiamo che stanno sparando noi a caso. L'ideale per me è avere un profilo tipo Timo Werner. Io ve l'ho detto, c'è Lipsia che sta andando molto avanti. Lips sta facendo un buon mercato perché avanti su David Raum, terzino sinistro dell'Hoffenheim, terzino sinistro che era poi anche di radar della Juventus, poi non so che fine abbia fatto, un peccato. Aramanini ne parla un gran bene, dice che per esempio secondo lui è il migliore esterno, è da due o tre spanne a Juventus per esempio e Inter negli esterni attuali che attualmente queste squadre hanno. Quindi giocatore secondo lui importante, che sposta tanto nell'economia e nell'equilibrio di una squadra. Raum questo. Timo Werner è un altro giocatore che lo stesso Aramanini stravede, conosce molto bene e dice che in Italia secondo lui fa 30 gol o fa fare comunque 30 gol, quello è il bottino che porterebbe lui alla squadra. È un giocatore che può fare sia all'esterno, quindi ha una certa utilità tattica e io fossi nei panni della Juventus vista e considerata anche la disponibilità del giocatore a ridursi lo stipendio del 50% per andare all'Ipsia. Proverei sicuramente in affondo perché un giocatore interessante attualmente prende 10 milioni netti quasi in quel di Londra al Chelsea. Alla Juventus se viene a prendermi 5 milioni in giocatore di quella portata, eccomi Kamale. Per cui vi dico, secondo me i giocatori che vanno monitorati per Vicevlawicz barra esterno fino a che il buon Kiko Chiesa non rientra a pieno regime è quel tipo di giocatore là. Un giocatore che è d'utile, capace di fare sia all'esterno e sia alla punta centrale. Timo Werner per me è il nome ideale, per cui io fossi nei panni di Cherubini andrei dritto sul ragazzo tedesco che deve rilanciare la propria carriera, deve rilanciarsi, deve riprendersi la Germania con una certa forza in vista anche del mondiale. È un buon momento, paradossalmente, con delle condizioni favorevoli dal punto di vista mentale, eccetera. Per cui mi butterei a pesce su un profilo di questa portata. Quindi Timo Werner è uno di cui i giocatori prenderei, quindi l'esterno e Vicevlawicz. E siamo a posto con un gol. Centrocampista. La questione centrocampista, secondo me, è molto più delicata, perché vincolata alle cessioni, abbiamo detto che Arthur e Rabiot sono giocatori che devono uscire per far spazio a dei nuovi giocatori. Sono dei giocatori che sicuramente potranno andare via, e vista e considerata la situazione in rosa della Juventus, Arthur è quello che andrà via in maniera più facile, perché l'ABO, per esempio, visto e considerato il ruolo che ricopre in campo, potrebbe essere il sostituto di Pogba, ecco. Non tanto per l'interpretazione o per le caratteristiche, ma per la posizione che ricopre in campo. Io fossi nei panini della Juventus, cercherei di cacciarli entrambi, questi due, di recuperare un po' di grana, e con quella grana andrei a fare un bello investimento. Ma là, ragazzi, la verità è che o prendi, ve lo dico papale papale, Sergei Milinkovic Savic, o prendi, che ne so, De Jong, o prendi un profilo di questa portata, e allora ne vale la pena spendere soldi e cacciar denaro, altrimenti, secondo me, ti tieni i giovani che hai, o un Rovella, e te lo fai crescere internamente, ti tieni i fagioli e cerchi di specializzarlo, o meglio nel posto dove gioca Pogba, nella zona di competenza. Qualcuno mi dice che i fagioli è un mediano-basso di impostazione, per me nulla di più vero, secondo me è una mezzala che è molto brava a fare un po' di rifinitura, nell'ultimo passaggio non è male, ha una bella visione, una bella verticalizzazione, è una mezzala di possesso, secondo me, tutta la vita, che ha la capacità anche di finalizzare e di finire alla grande, per cui non lo rilegherei a ruoli di impostazione e ruoli di prefiltraggio. Quindi, vi dico, situazione di centrocampo, o facciamo il colpo col botto, o a sto punto, per prendere un colpo medio, come Paredes, che a me preoccupa anche dal punto di vista fisico, ve l'ho già detto, anche se è un buon giocatore, che magari sposta anche un pochettino, preferisco fare un percorso per i giovani e per cercare, magari, di migliorare. Voi, magari, mi direte, è colpo, ma non è sufficiente, sono d'accordo con voi, tant'è vero che a quel punto io preferisco prendermi un De Jong e un Milingo Vilsavich e direte, grazie al cazzo, è così, è così, per spendere soldi e sperperare risorse, per avere un giocatore medio per 4-5 anni, preferisco rimanere o con quelli che siamo, cercando di valorizzare i giocatori interni, e magari poi, se non si rivelano da Juve, li possiamo vendere, comunque ci abbiamo creato del valore sopra, oppure prendo un giocatore forte che già quando arriva impatta e sposta tanto. Questa è l'altra alternativa. Per quanto riguarda il difensore centrale, Milenkovic, secondo me, è una situazione che va monitorata. Se riusciamo a tirar via Lugani, che è molto complicato, ma io vi dico, non so se la questione di liste è molto ingarbugliata in difesa, io cercherò di prenderlo da prescindere, in ogni caso, anche se siamo in 5 centrali. Se poi Lugani gioca poco, e sti cazzi lo sa, perché quello là va avanti nelle gerarchie, come giusto che sia. Occhio a Gatti, che lo stiamo sempre sottovalutando, ma Gatti è un'incognita ancora, la teniamo come incognita, e meglio così, perché noi addossiamo la responsabilità di dover fare il vice qualcuno quando si rompe o Bremer o Bonucci. Quindi lui gioca con una certa tranquillità, con una certa serenità, conscio del suo ruolo, se poi sarà valido, eventualmente scalerà le gerarchie, e andrà per le direzioni eventuali di titolarità, magari proprio con Bremer in coppia. Quindi è da vedere. Difensore centrale, ripeto, prenderei tutta la vita Milenkovic. E infine, ragazzi, andrei a chiudere sul terzino sinistro. Cercherei di liberarmi di Pellegrini, perché Pellegrini è una riserva che lo stesso Allegri non vede bene, non vede bene. Poi, lì c'è Alessandro, che l'anno prossimo va in scadenza, mi prende un terzino sinistro, aspetto che Alessandro l'anno prossimo va in scadenza, arriva di nuovo Cambiaso, che torna dal prestito col Bologna, e ho la batteria dei terzini sinistri già fatta e finita. Cioè, questa, secondo me, è la cosa che manca per completare la rosa. Quattro colpi, ben assestati, anche se questi quattro colpi sono anche in parte vincolati da alcune cessioni. Però, se la Juventus vuole arrivare completa e finita, come squadra, al primo di settembre, ecco, questo è un buon modo per arrivare là tranquilli, fare un'annata straordinaria, fare un'annata dove non sei corto, dove non ti devi cagare addosso perché ti si da un petizio e non hai caio. Ovviamente anche in attesa di un ritorno di Chico Chiesa, che tornerà a breve. Però, ecco, sono questi i colpi che assesterei per completare la rosa. E le mie preoccupazioni mi sono condivise con voi, perché se la Juventus fino ad ora ha fatto un buon mercato, se non me lo chiude con questi quattro colpi. E là si perdono punti, come giusto che sia. È come un videogioco. Un videogioco. Fai bene tutto all'inizio, chiudi male lo schema, magari un gioco di piattaforma come fa il Chiesa quando giocate in squadra. I primi due arrivano benissimo, poi altri due non arrivano più e le altre squadre ti superano. È così che funziona in quel gioco e così che funziona anche nel dare il voto al mercato della Juventus. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e sempre ragazzi, sempre, fino alla fine, Forza Juve!